Andrea Pierfederici prosegue a gonfie vele l'attività della Blue Shark Diving anche con la recente scoperta di un nuovo relitto che voi state appunto scoprendo di giorno in giorno. Ci spieghi un po' come prosegue la vostra attività? Sì, innanzitutto dobbiamo ringraziare Simone Pierucci che ha scoperto questo relitto e prontamente l'ha comunicato alla Direzione Marittima di Civitavecchia, comandata dal comandante Thomas che in questo senso ha veramente messo in piedi immediatamente tutte quelle che erano e sono le prescrizioni e diciamo così le dinamiche necessarie affinché questo relitto potesse divenire comunque fruibile alla subacqua e ricreativa. La nostra SD ovviamente si è attivata subito dopo queste operazioni appunto messe in piedi dalla cabina di porto e abbiamo iniziato una serie di immersioni grazie alle quali siamo riusciti innanzitutto a datare questo relitto perché siamo entrati all'interno proprio oggi delle parti più diciamo anguste del relitto, abbiamo trovato dei profumi, abbiamo trovato comunque degli oggetti che ci riportano agli anni Ottanta, abbiamo trovato proprio dei dopobarba all'interno proprio di questo relitto, delle confezioni che già quantomeno siamo riusciti a dare una identità temporale. È una chiatta, come chiatta noi intendiamo dire quelle diciamo così imbarcazioni deputate al trasporto di diciamo macchine da lavoro dunque gru, ruspe e cose varie o comunque del trasporto per esempio di sedimenti e cose varie, 50 metri circa per 10 di larghezza alla profondità di 36 metri, alza fino a 30 metri, è un relitto che entra a far parte dei famosi 6 relitti che abbiamo qui già a Civitavecchia a partire dall'Aternò a 60 metri di profondità, dal relitto Asia a 36, questo nuovo che l'abbiamo denominato relitto Pierucci, il Transmit, Liburna, l'Asia 2 e poi abbiamo anche un altro relitto che è più fondo, che ha 80 metri che solo per subacquei tecnici. Ma questo relitto è stato particolare perché è adiacente a un relitto che già conosciamo da circa 20 anni che è il relitto Asia e sta a poco meno di 300 metri, è incredibile come nonostante l'intensa attività subacquei nessuno se ne fosse mai accorto, tantomeno il sottoscritto che conosce questo mare passo dopo passo. Proprio perché era vicino è un po' come trovare il forziere d'oro sotto il letto di casa e l'abbiamo trovato, l'ha trovato Simone, ce l'ha comunicato e adesso lo stiamo esplorando. Chiaro è che di concerto con l'autorità marittima e l'amministrazione comunale la nostra SD sta lavorando in maniera tale di poter effettuare delle emersioni in sicurezza. Questo significa che questa emersione viene, almeno da parte nostra, organizzata esclusivamente con subacquei professionisti, cioè persone comunque in grado di poter esplodare questa attività con miscele particolari a quelle profondità perché comunque 30-35 metri non sono pochi sott'acqua, per cui la sicurezza sempre al primo posto.